Eseguire una macro di Excel in automatico all'apertura del file. Ben trovato su Excel ha sempre ragione, io sono Marco in arte macro braglia e se non mi conosci sono un esperto di Excel e di automazione con le macro. Prima di partire voglio ricordarti di fare addirittura due cose. La prima è quella di iscriverti al gruppo Facebook Excel ha sempre ragione dove potrai interagire direttamente con me e chiedermi quello che vuoi. La seconda è quella di iscriverti a questo canale YouTube con la campanella qua sotto per non perderti nessuno dei miei prossimi tutorial su Excel. Andiamo al dunque e in questo video andremo a vedere come fare ad eseguire in automatico una macro quando apriamo il nostro file Excel. Passiamo subito all'azione e andiamo a vedere nel nostro file Excel nella sezione sviluppo Visual Basic e andiamo ad esplorare questa sezione Microsoft Excel oggetti che non abbiamo ancora visto in nessuno dei video precedenti. Qui abbiamo un oggetto che si chiama questa cartella di lavoro. Questa cartella di lavoro è inteso il file e questo oggetto che è l'oggetto foglio 1 perché il nostro file ha solo il foglio 1. Se noi andassimo ad aggiungere un foglio 2 andiamo a riprendere il Visual Basic e qui è comparso un altro oggetto foglio, il foglio 2. Cosa dobbiamo fare? Per fare in modo che il nostro Excel esiga qualche cosa in automatico quando apro il file, il file è la cartella di lavoro, quindi noi dobbiamo andare a scrivere qualcosa in questo oggetto qua. L'oggetto cartella di lavoro, se non lo vedete, a modo questo qui, cartella di lavoro. L'oggetto questa cartella di lavoro è l'oggetto che ci permette di far fare delle cose al file e non ai vari fogli. Qui dentro, nello spazio bianco, ci sono due menù a tendina qua sopra che non abbiamo mai guardato che ci permette di scegliere gli oggetti Workbook, che è cartella di lavoro, file in inglese e l'evento associato. E automaticamente quando noi scegliamo Workbook, nel secondo menu a tendina, sempre questo qui, Workbook Open, lui ci fa vedere l'evento che vogliamo utilizzare. C'è un menu da cui possiamo scegliere un sacco di eventi. Quello che ci interessa per questo video qui è l'evento Open, l'evento Apertura. Andiamo qua dentro e andiamo a scrivere un comando di esempio. Per esempio, message box, hai aperto correttamente il file, correttamente il file. E chiudiamo le virgolette. Facciamo play per testarlo e vedete che ve lo porto qua su, se no ha coperto la mia faccione, viene fuori la finestrella, hai aperto correttamente il file. Ora andiamo subito a testarlo, salviamo, salviamo, chiudiamo il file Excel e vedete che qui, questo non c'entra nulla, c'è il nostro file testopen.xlsm, un file con attivazione macro. Se andiamo a fare doppio clic, mi aprirà il mio file ed ecco qua, all'apertura automaticamente compare la casella di messaggio con hai aperto correttamente il file. Per questo video è tutto, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qua sotto. Ti voglio ricordare anche in chiusura di iscriverti al gruppo Facebook e di iscriverti al canale per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. E ricordati che Excel ha sempre ragione! Grazie a tutti!